L'ora di religione, opportunità offerta a tutti, spazio di dialogo e di incontro. C'è tempo fino al 25 gennaio per le iscrizioni a scuola e per scegliere un insegnamento che arricchisce e sostiene nella crescita. La pandemia ha fatto emergere fragilità e speranze dei cristiani. Nessuno si salva da solo. Nella tavola rotonda ecumenica su Telepace e il monito, i credenti devono impegnarsi perché nessuno venga abbandonato. Vengo per adempiere la volontà di Dio, il saluto di Don Daniele Berogno, nuovo parroco a Temossi, Carreghi, Belpiano, Acero e Bristolara. Sarà coadiuvato da Don Pino Privitera e dal diacono Enrico Devoto. Barassi riparte da Don Borinato. Sono una persona semplice e diretta detto al suo ingresso, cercatemi senza temere gli disturbarmi. Poi l'invito a camminare insieme ai fedeli di Santa Giulia e Sorlana. Don Stefano Bruzzone è stato nominato parroco di Graveglia di Varole Paggio a Carasco. Subentrerà Don Enrico Dondero, dimissionario per motivi di età. L'ingresso il 14 febbraio. Cucinare, pulire, preparare la tavola, disegnare, gesti di cura che educano e acquistano un significato speciale se compiti insieme. Azione Cattolica propone questo gesto alle famiglie nel cammino del Mese della Pace. Salve a tutti, ben ritrovati a Noi Chiesa, la nostra rubrica settimanale che ripercorre quelli che sono stati i principali fatti nella vita della Diocesi di Chiavari. In apertura parliamo di scuola perché c'è tempo fino al 25 gennaio per iscrivere i propri figli al primo anno di ogni ciclo di istruzione. In questa fase viene proposta la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Sono moltissime quindi le famiglie che in queste settimane stanno affrontando questo tipo di scelta. Ascoltiamo la testimonianza adesso di due giovani insegnanti di religione che ci aiutano a capire un po' più da vicino quale sia il valore dell'insegnamento della religione cattolica a scuola. L'ora di religione non è un'ora per i cristiani o per i ragazzi del catechismo ma è un'ora accessibile a tutti. L'ora di religione è un'opportunità offerta a tutti e non è detto che per partecipare si debba essere credenti. Io ho un'alunna che sicuramente so essere musulmana e è un'esperienza bellissima. Sono poi davvero ragazzi che hanno una curiosità incredibile ed è proprio arricchente. Questa ragazza qua è fortissima perché poi si arrabbia con chi non fa religione. la prende quasi sul personale e è sempre attentissima, fa un sacco di domande, interviene sempre. Ma così anche quest'anno mi sono accorto un pochino tutti i ragazzi che normalmente non avrebbero fatto religione. Si vede che nonostante non facciano religione notano un po' la bellezza e la particolarità di quell'ora. Chiara insegna religione a 18 classi di scuola media fra Zoagli, Rapallo e Santa Margherita Ligure. Suo marito Mattia ha a sua volta 18 classi fra le medie di Gattorna, quelle di San Salvatore e Lipsia di Chiavari. La loro è stata una scelta maturata nel tempo e intrapresa con determinazione ma anche con grande gioia. È stata una scelta sicuramente maturata nel tempo, non è venuta subito dopo la fine delle scuole superiori. Ho aspettato qualche anno ma è stata un po' direi quasi un po' una chiamata che piano piano è venuta fuori. Ritengo anche di essere stata piuttosto fortunata perché a mia volta ho avuto persone all'interno delle scuole che ho frequentato che in qualche modo mi hanno fatto apprezzare l'ora di religione. Quindi c'è stata un po' la volontà di forse restituire qualcosa di buono che c'è stato anche per me. Io penso che la religione cattolica sia una materia come le altre ma una materia privilegiata allo stesso tempo. Mi accorgo che riesco ad avere l'opportunità anche nella singola ora settimanale di incontrare i ragazzi, di intercettare un po' le loro domande, di instaurare un dialogo con loro che in altre materie non è possibile forse. E quindi è innanzitutto un'ora per i ragazzi, per davvero avere un'ora nella quale poter ascoltare delle parole buone innanzitutto per la propria vita. Per diventare insegnanti di religione occorre frequentare l'Istituto di Scienze Religiose di Genova anche nelle sue sedi distaccate e oggi con lezioni online. È un percorso che si declina in cinque anni con un primo step in una laurea triennale e poi dopo due anni il conseguimento della laurea magistrale che abilita del tutto all'insegnamento della religione cattolica. E per te la parte più interessante di questi cinque anni di studio, qual è stata, insomma, cosa è stata la cosa che, per la quale diresti lo rifarei, insomma? E beh, allora, è stato un percorso molto molto interessante. Lo rifarei per tutte le cose che ho imparato, per tutti i confronti che ho potuto avere con realtà diverse anche, perché prima di tutto è stato un momento di approfondimento per me, l'approfondire appunto la teologia, ma anche la filosofia, così come l'aver a che fare con docenti che a loro volta insegnano da più tempo e quindi sono stati dei veri e propri maestri e non solo, ho anche dei compagni un pochino di viaggio che tuttora, come dire, possono essere rincontrati e regalano sempre comunque momenti di confronto, di arricchimento. Nella pandemia gli insegnanti di religione per effetto della riorganizzazione complessiva delle materie e degli orari hanno potuto incontrare anche ragazzi che normalmente non si avvalgono di questo insegnamento. È stato un arricchimento importante per me, ma più che altro penso per tutta la classe, per tutti i loro compagni, perché probabilmente per il fatto di non aver mai fatto religione sono i ragazzi che pongono più domande, hanno più interrogativi e permettono di ampliare gli argomenti, di approfondire le cose e oltre a questo si ha il vantaggio di incontrare ragazzi anche di religioni diverse e quindi possono portare il loro contributo raccontando delle esperienze proprie della loro religione. Ma non è insolito che anche studenti e studentesse non credenti o appartenenti ad altre confessioni religiose, cristiane e non, decidano di partecipare. La cosa che secondo me è bella è che diventa un momento in cui ci si può confrontare sulle diverse religioni a cui, insomma, noi come cittadini del mondo ci si può andare incontro. Ecco, non per forza l'appartenere a diverse confessioni deve essere un ostacolo, ma anzi io ho notato che diventa sempre un momento arricchente di confronto, anche, come dire, danno tanti spunti di riflessione questi ragazzi e vedo anche che chi li ascolta ne esce arricchito e incuriosito. Ecco, quindi veramente l'ora di religione è un qualcosa che può essere per tutti proprio perché è luogo di confronto e dialogo. Poi ecco, in quanto uomini abbiamo tutti un pochino le stesse domande ed è bello vedere le diverse risposte che l'uomo ricerca. E siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sabato alle 15 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto si terrà la celebrazione ecumenica. La predicazione sarà affidata al vescovo Alberto Tanasini e la celebrazione sarà trasmessa in diretta a TV. Intanto su Telepace si è tenuta la tavola rotonda con gli esponenti delle varie confessioni cristiane presenti sul territorio. Vediamo. L'impegno dei cristiani nella pandemia è quello di promuovere una cultura inclusiva che ricordi al mondo che anche i soggetti più fragili hanno diritto alla loro fetta di attenzione, rispetto e cura. Assume contorni nuovi quest'anno la preghiera per l'unità dei cristiani tradizionalmente compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e quella della conversione di San Paolo. Il tema di quest'anno si rifà alle parole di Gesù rimanete nel mio amore e produrrete molto frutto tratto dal Vangelo di Giovanni. Il frutto oggi si declina nell'essere monito al mondo. Nessuno si salva da solo. Nessuno può essere abbandonato. Non si può, come cristiani, fermarsi ai numeri dei morti e dei contagiati del proprio paese o del paese vicino o addirittura alla propria regione. I cristiani sono in prima linea per ricordare a tutti che di pandemia si muore anche in quei paesi dove non c'è assistenza sanitaria e dove il numero dei morti non fa effetto come quelli degli Stati Uniti o del Brasile. Il materiale di riflessione per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2021 è stato preparato dalla comunità monastica di Grand Champ in Svizzera, costituita da una cinquantina di suore di diverse tradizioni cristiane e di diversi paesi. Fondata nella prima metà del XX secolo, fin da principio ha coltivato forti legami con la comunità di Tese e con il padre Paul Couturier, figura chiave della storia della settimana di preghiera. Le difficoltà nel tempo della pandemia hanno avvicinato tutte le confessioni cristiane, i luoghi di culto chiusi, l'impossibilità di celebrare i sacramenti, la preghiera personale. Si salva all'interno di una comunità. La pandemia si è messa di fronte a una situazione che ha messo in crisi anche il nostro essere, la nostra identità anche ecclesiale. Rimanere nell'amore che è Cristo è un segno di speranza, non solo per l'ecumenismo, ma anche per lo sforzo che hanno i cristiani di tutti i giorni, di rimanere uniti, di rimanere uniti anche a una prospettiva ecclesiale di comunione e di comunità di persone. La salvezza è relazione soprattutto, è verità che si vive nella relazione, una relazione con Dio ed è un dimorare nell'amore, un amore che è appartenenza degli uni verso gli altri attraverso Cristo e che ci chiama certo a guardare a cosa ci tiene insieme nelle nostre chiese come credenti, ma ci porta anche a guardare più in là, al di fuori delle nostre chiese, al mondo insomma in cui nessuno si salva da solo. E proseguono gli avvicendamenti dei vari sacerdoti alla guida delle comunità del nostro territorio. Nei giorni scorsi Don Daniele Beronio ha celebrato l'eucaristia nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta Temossi, iniziando così il suo ministero nelle parrocchie dell'Alta Valle Sturla, Acero, Brizolara, Careghi, Belpiano e appunto Temossi. Don Daniele comunque mantiene il servizio di parroco a Borzonascoa, Levaggi e Prato Sopra la Croce e sarà coadiuvato dal diacono Enrico Devoto e da Dompino Privitera. Don Andrea Borinato invece ha fatto il suo ingresso nella parrocchia di Barassi. Vediamo. E allora Gesù dice venite e vedrete. E allora andiamo e vediamo. Cominciamo questa nuova avventura per me e per voi e vediamo. Fa riferimento alle parole del Vangelo Domenicale Don Daniele Beronio nella sua prima messa da parroco celebrata nella comunità di Santa Maria Assunta Temossi e così facendo prendendo ufficialmente possesso anche delle parrocchie di Careghi, Brizzolara, Acero e Belpiano. Otto in tutto le frazioni del comune di Borzonasca di cui Don Daniele Pastore, una sottolineatura che il sindaco ha posto in risalto nel saluto iniziale, evidenziando caratteristiche di bontà e dinamicità di Don Daniele, richiamate anche dal vicario generale Don Stefano Mazzini che ha accompagnato il sacerdote. Tra i suoi pregi c'è certamente la generosità e la disponibilità e credo che questo sia una caratteristica di un pastore molto preziosa. Don Beronio sarà coadiuvato da Don Pino Privitera nelle celebrazioni eucaristiche e dal diacono Enrico Devoto. Ecco, l'aiuto che potrò dare è la mia completa disponibilità secondo le esigenze che si presenteranno, certamente nel mio ambito e nelle mie possibilità anche. Naturalmente io non sono un sacerdote, quindi non potrò fare le cose che fa il sacerdote, però ho riscontrato che in diverse occasioni, quando il sacerdote è stato impossibilitato andare a celebrare l'eucaristia domenicale. Abbiamo fatto insieme con le persone la liturgia della parola e devo dire che è stata ben accettata e che non se ne facevano un problema grosso. Certamente non è la Santa Messa, però è un qualche cosa intanto che si dà. Una cosa che mi ha chiesto il Vescovo in particolare è aiutarlo nella visita alle persone ammalate e anziane. Questa è una cosa che ho sempre, un pochino, sempre fatto ecco nella mia vita, nel mio piccolo, per la mia propensione, così ecco la mia disponibilità anche in questo campo, perché ti fa anche, sono cose che dai ma ricevi anche molto, no? In queste tue cose. Quindi in questo campo cercherò, con la collaborazione della popolazione però, perché è come i sacerdoti, di certe cose, a volte non si sanno chi è ammalato, chi è all'ospedale, quindi veramente è richiesta una collaborazione anche di informazione, per sapere anche, ed è aiuto, perché non sempre è facile anche avvicinare una persona in casa. Quindi questo è importante, la collaborazione di tutti in questo campo. Ecco, io posso fare quello, nella mia disponibilità, nell'aiuto, nella liturgia. Purtroppo, ed è una mancanza che non mi spiego tanto, voglio dire, la mancanza di chierichetti nelle nostre parochie. Prima c'era all'altare, insieme al sacerdote, c'erano sempre i chierichetti che aiutavano. Io devo dire, purtroppo, che i chierichetti sono, non ce ne sono più, non so come mai, ecco. Può darsi che andando avanti, magari si riavvicinano e che possono collaborare. Perché è bello vedere insieme a sacerdote anche i ministranti, ecco, che fanno la loro parte. Molto importante. Per loro che lo fanno, ma anche per la gente, ecco. Sacerdote da solo, sull'altare, sembra che manchi qualche cosina, ecco. E in questo anche, cercheremo di fare magari, se fosse possibile, riavvicinare. Però anche qui, come dicevo prima, per gli ammalati, anche qui è basilare, è basilare, proprio lo ripeto, è basilare, che ci sia una collaborazione strettissima con le famiglie. Perché io sono sempre andato a messa, quando ero ragazzino, c'era la messa prima, prima di andare a scuola, voglio dire. Però se non mi alzava mia mamma che mi metteva le calze, che mi metteva, e andava, non sarei certamente andato. Quindi, la collaborazione con le famiglie è basilare. E l'esempio è altrettanto. Non si può più mandare, vai, ma bisognerebbe dire andiamo, quando è possibile, naturalmente. Questo dovrebbe aiutare a collaborare meglio anche nella pastorale familiare dei ragazzi. L'intento che muove il nuovo parroco e i suoi collaboratori è quello di adempiere la volontà di Dio. Credo sia lo scopo per cui io sono arrivato qua e sono arrivato in tutte le parrocchie che ho servito. cioè fare la volontà di Dio vuol dire mettersi al servizio delle persone, delle cose, di quello che c'è per rendere gloria a Lui. Quindi, mi pare che sia un po' l'obiettivo principale che noi sacerdoti abbiamo nel nostro ministero. C'è il rischio della dispersione, sicuramente, che poi si facciano le cose un po' con approssimazione, con... non dico con disattenzione, però a volte può succedere. Ecco, è il rischio che corro io, sicuramente, in questa esperienza. Io chiedo al Signore veramente tutto l'aiuto possibile proprio perché questo non avvenga. Credo che una comunità cristiana non sia solo il parroco, anzi, non lo è. Quindi, tutti noi, tutti i laici sono chiamati a fare la loro parte e a farla bene come dovrebbe farla anche il loro parroco. Quindi, mi pare che ci sia questa sinergia che è fondamentale nella comunità. L'ingresso di Don Borinato a Barassi è guidato dal brano di Vangelo dove Andrea conduce Pietro da Gesù, una pagina che parla di un inizio, di un cammino che nasce tra il pastore e la sua comunità. L'ingresso in questa domenica è stato scelto, direi quasi casualmente, non guardando alla pagina di Vangelo, però c'era un brano che dove c'era come protagonista anche insieme chiaramente a Gesù c'era anche Andrea e Pietro, i due fratelli. E mi colpiva il fatto che Andrea dice a suo fratello Pietro abbiamo trovato il Messia e lo porta da Gesù. E sentivo che questa parola era importante, illuminante per questa giornata di inizio di servizio pastorale qui a Barassi perché sento che il compito del parroco prima di tutto è proprio questo, di fare quello che ha fatto Andrea, di accompagnare i fratelli all'incontro con Gesù e quindi rincontrare Gesù insieme con loro. Mi ha puntato molto anche sul discorso dell'unità e certo che adesso anche le tre comunità potranno camminare insieme, ecco questo sarà importante. Ma sì, è certamente importante al di là di quelle che sono le storie personali delle singole comunità che vanno amate e rispettate perché sono appunto le storie della gente che qui ha vissuto e che qui vive però è necessario nei nostri tempi vivere un cammino anche unitario di comunione, ecco, pur nella diversità ma comunque nell'unità. Papa Francesco ce lo ricorda sempre che questo qua nel tempo della disgregazione ma dello stare insieme del camminare insieme mi ha fatto piacere che anche il nostro sindaco lo ha detto da soli non facciamo niente quindi la collaborazione anche tra la parte civile il comune e le nostre parrocchie. I fedeli di Barassi ritrovano un punto di riferimento stabile nel periodo di assenza di Don Monterosso la messa domenicale è stata assicurata dai padri della Consolata. Sono una persona semplice e diretta e l'approccio del neoparroco nei saluti alla comunità cercatemi senza temere di disturbarmi. Dobbiamo assolutamente camminare insieme insieme si possono fare tante cose insieme si sconfiggono anche le difficoltà come quelle che stiamo vivendo il momento difficile che stiamo percorrendo insieme la forza centuplica e le forze sono quelle che ci fanno superare gli ostacoli il momento particolarmente toccante dell'insediamento del nuovo parroco deve costituire l'inizio di un percorso che la nostra comunità la comunità di Sorlana la comunità di Santa Giulia che già conosce il parroco vive con grande attenzione perché costituisce per tutte le persone che lo frequentano una guida che insieme tutti insieme sarà decisiva per il nostro cammino. Lo conosco da sempre da ragazzo da Chirichetto Lavagna Santo Stefano quindi quando è stato nominato parroco Santa Giulia ero ben felice che fosse tra noi è una persona molto disponibile sa stare vicino a tutti a chi soffre ai giovani agli anziani si dedica molto agli anziani e nella comunità di Varassi vorrei proprio che fosse accolto come un fratello un figlio secondo l'età ecco però una persona veramente che merita di essere voluta bene. felice e contenti di avere una persona che sarà presente con noi e spero di non deluderlo ha detto di disturbarlo pure è quello senz'altro è una gioia grande perché adesso eravamo un po' speriamo un pochino di camminare insieme non avevate più un punto di riferimento ora invece si riesce a costruire adesso ci abbiamo un punto di riferimento anche per parlare un po' ha detto che è disponibile no? nell'omelia il vicario della diocesi Don Stefano Mazzini spiega che Dio non si cerca mai da soli un concetto ripreso nei saluti da Don Borinato che essendo già parroco di Santa Giulia e Sorlana esprime il desiderio di camminare insieme oggi come oggi anche se ci guardiamo un po' onestamente in faccia diciamo ma quanti siamo dobbiamo stare uniti dobbiamo camminare insieme il Papa ce lo dice sempre non è il tempo delle diversità delle divisioni delle lontananze ma è il tempo dell'incontro dello camminare dello stare uniti insieme una missione che darà vigore al cammino di fede della zona noi abbiamo avuto una grande bella esperienza con Don Andrea siamo contenti di poterlo accompagnare qui anche se un po' ci dispiace perché questa suddivisione io capisco che aumenti per lui il carico di lavoro aumentino gli impegni d'altronde d'altro lato sappiamo che Don Andrea assumerà a pieno titolo questa nuova parrocchia questo nuovo impegno Don Andrea è una persona seria una persona capace una persona molto posata una persona che a noi ha dimostrato di saper assolvere a pieno il suo ruolo noi siamo molto contenti di lui perché si è rivelata una persona a tutto tondo una persona che sa ascoltare i parrocchiani che sa sedersi a fianco a loro quello che noi chiedevamo e quello che auguriamo che sappia fare a pieno anche con Barassi anche se capiamo che questo nuovo impegno gli porterà via tempo e ore di lavoro ecco siete contenti anche della possibilità di poter camminare insieme come tre comunità assolutamente anzi io vedo questo nuovo impegno di Don Andrea come la riunione di questi tre paesi che storicamente come tutti i paesi vicini del mondo sono sempre stati un po' divisi da campanilismi ma quei bei campanilismi che si usano fra paesi che però a volte rischiano di allontanarli un po' e di separarli avere il parroco comune secondo me avvicinerà questi paesi e Don Andrea sappiamo che saprà assolvere questo compito nelle celebrazioni domenica scorsa è stata ufficializzata la nomina di Don Stefano Bruzzone come parroco delle comunità di San Nicolò di Paggi San Quirico di Rivarola e San Eufremiano di Graveglia a Carasco Don Stefano subentrerà l'attuale parroco Don Enrico Dondero che avendo compiuto 75 anni lo scorso 3 dicembre ha presentato le proprie dimissioni accettate dal vescovo Don Enrico continuerà a prestare servizio pastorale in diocesi con altre mansioni Don Stefano Bruzzone 37enne ordinato sacerdote il 4 giugno 2017 ha ricoperto in questi anni l'incarico di vice parroco nelle comunità parrocchiali di San Marziano Santa Maria di Sturla e San Pietro di Sturla a Carasco e nelle parrocchie di San Colombano di Vignale San Martino del Monte Celesi Cichero l'ingresso è stato fissato per domenica 14 febbraio nella parrocchia di Santa Eufemmiana Graveglia proseguono le iniziative inserite nel calendario del mese della pace 2021 e organizzate da azione cattolica questa settimana i bambini ai ragazzi e alle loro famiglie viene proposto di realizzare un gesto di cura fra le mura domestiche per poi condividerlo vediamo ciao a tutti siamo di nuovo noi i ragazzi della CR stiamo registrando questo video per presentarvi l'attività che proponiamo per la settimana che sta per iniziare quindi da lunedì 18 fino a domenica 24 gennaio quello che vi invitiamo a fare è un'attività di cura da vivere in casa insieme a tutta la famiglia potrete quindi sbizzarrirvi con le idee e fare quello che secondo voi rappresenta maggiormente la cura nel caso in cui foste in difficoltà o non vi venisse in mente nessuna idea noi abbiamo pensato ad alcuni esempi che vi proponiamo adesso in questo video quindi buona visione potreste invertire il ruolo in famiglia voi bambini e ragazzi potreste fare per qualche ora quello che solitamente fanno i vostri genitori ad esempio facendo le faccende domestiche come in questo caso passare all'aspirapolvere ciao noi come attività di cura vi proponiamo quella di preparare un piatto noi ad esempio abbiamo preparato delle tagliatelle con la farina di castagne ma potete fare quello che vi piace di più un dolce la pizza l'importante è che questa sia davvero un'attività di cura nel senso che deve essere una cura non solo del piatto degli ingredienti della preparazione di tutto il resto ma anche un momento per passare del tempo insieme e curarsi proprio della persona a fianco e quindi farlo piccini con grandi fratelli sorelle genitori e quant'altro divertitevi e mi raccomando ricordatevi di mandare la foto del vostro piatto magari anche voi all'interno sul nostro padlet per poter condividere con tutti gli altri ciao a tutti io come gesto di cura vi propongo quello di svolgere un'attività artistica come un disegno o un dipinto io ad esempio ho realizzato questo un'attività Grazie a tutti. Per poi mostrarlo a tutti. Ciao! Non avete fatto la frutta, ma voi siete liberi di usare quello che avete in casa, con creatività e fantasia. Aspettiamo le foto e i video della vostra tavola e del vostro centratavola sul Padlet. Ciao e a presto! Ciao! Volevo proporvi un'attività da fare in famiglia. Ognuno di noi nella propria casa potrebbe trovare un angolo, uno spazio da dedicare alla preghiera. Nel mio angolo, nell'angolo della nostra casa, ho inserito un Vangelo, una lampada, dei fiori di legno, una foto e una preghiera che volevo condividere insieme a voi e vi allegherò al video. Sarebbe bello che ognuno di voi riuscisse a pubblicare la propria preghiera e il proprio angolino e condividerlo insieme. Grazie, ciao, a presto! Possiamo per esempio prenderci cura delle piantine che abbiamo a casa. E adesso andate tutti sul link del Padlet che trovate sul volantino, quello riferito appunto alla seconda attività e postate le vostre foto di come vi siete presi cura in famiglia. E inoltre vogliamo rinnovare l'invito a donare per il fondo di prossimità. Abbiamo quindi deciso di prolungare la raccolta fondi attraverso gli sponsor che voi avrete già iniziato a trovare e attraverso le attività che vi sono state proposte nel precedente video. Ciao ragazzi! Lutto nella famiglia delle Giannelline per la morte di Suor Margherita. Al secolo Gina Trasolini era originaria dalla provincia di Frosinone nel Lazio e lo scorso 25 dicembre aveva compiuto 89 anni, di cui oltre 70 da consacrata. Suor Margherita era molto conosciuta nel territorio per i tanti servizi svolti nelle comunità religiosa, caratterizzati sempre dall'attenzione alle persone e dalla passione per il carisma del fondatore Sant'Antonio Gianelli. È stata vicemadre maestra, vicaria provinciale, madre provinciale e superiore del Conservatorio a Chiavari, ma precedentemente aveva prestato servizio come infermiera per diversi anni all'ospedale Felettino di La Spezia. Ultimamente risiedeva nel Conservatorio a Chiavari, dove cercava con umiltà di essere a disposizione per le sorelle più malate. Il funerale sarà celebrato domani mattina alle 9.30 nella chiesa del Conservatorio a Mare a Chiavari. E arriviamo adesso alla giornata mondiale del malato che si celebra l'11 di febbraio e quest'anno anche la celebrazione nella nostra diocesi coincide con questa data. L'appuntamento sarà nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto per la celebrazione dell'Eucaristia. Nell'anno dedicato a San Giuseppe, il Santuario di Montallegro a Rapallo propone un'iniziativa di riflessione ogni mese, il giorno 19. Titolo di questo momento sarà Con Cuore di Padre. Per i primi tre mesi l'inizio è alle ore 15, dunque martedì scorso l'iniziativa ha preso il via con la recita del rosario di San Giuseppe. È stata una breve meditazione con le litanie del Santo. Segue la messa nella cappella dedicata a San Giuseppe. E in chiusura vediamo gli appuntamenti perché domenica alle ore 9 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea di Foggia Rapallo in ricordo di Don Roberto Serra a dieci anni dalla sua scomparsa. Don Roberto è stato parroco della frazione rapallese per molti anni e sotto la sua guida sono state realizzate numerose opere come l'estensione del concerto di campane, la realizzazione del nuovo pavimento della chiesa, i lavori di restauro del campanile e la realizzazione del campetto parrocchiale. La comunità lo ricorda con affetta e gratitudine soprattutto per l'attenzione costante e la vicinanza alla gente. E con questo è tutto. Don Noi Chiesa ritorna la prossima settimana per raccontarvi la vita della diocesi di Chiavari. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.